buongiorno io aprirei con questo bellissimo scorcio della costa abruzzese qui siamo a fossa cesia io mi trovo sul promontorio dove c'è l'abbazia di san giovanni in venere un posto bello storico noassi di pace diciamo così ecco questa è l'abbazia dal lato dietro diciamo mentre qui c'è la la parte anteriore bel giardino bello molto curato tenuto bene è un'aria di pace di serenità di tranquillità infatti le macchine si lasciano più distante ecco bella l'abbazia di san giovanni in venere un bel posto giardino ben tenuto curato c'è questa scalinata molto grande con l'ingresso frontale che è chiuso ovviamente si entra da quella porta laterale da quella parte c'è anche una cripta sotto sotto terra diciamo così con dei dipinti antichi ecco questa è la facciata un oasi davvero un oasi di pace con lo sfondo del mare ciao 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 ciao